Se negli Stati Uniti tra le potenti lobbies che sostengono i repubblicani c'è anche la Rifle, organizzazione che sostiene la libera vendita delle armi, in Italia c'è una piccola fetta di elettorato, minuscola, che sta per ricevere dal governo un regalo che rischia di avere conseguenze devastanti. Alla Camera è infatti in discussione un emendamento alla legge che, attribuendo alcuni poteri alle regioni, consentirebbe di fatto la deroga della stagione venatoria oltre il limite attuale del 31 gennaio, fino addirittura a tutta l'estate. Un'eventualità disastrosa per molte specie animali, che proprio tra febbraio e marzo vivono un momento cruciale per la riproduzione. Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze negative anche per le persone. Nei cinque mesi di stagione venatoria 2009-2010 la caccia ha procurato 71 feriti e 24 morti, praticamente tre vittime ogni due giorni, come ha detto la presidente dell'Associazione Vittime della Caccia, Daniela Casprini. Fortunatamente all'interno della maggioranza c'è una forte spaccatura. Della fronda farebbero parte le ministre Presi Giacomo e Brambilla, oltre che diversi deputati, molti dei quali vicini al presidente della Camera Gianfranco Fini. Il voto è previsto per oggi, mentre all'esterno della Camera diverse associazioni tengono da giorni un presidio permanente. In un paese pieno di problemi di un certo peso, dalla mafia alla corruzione, dalla crisi economica al crollo del sistema universitario, dalle infrastrutture alla disoccupazione, ci ritroviamo a parlare di caccia. Questa pratica, che alcuni definiscono sport con una certa dose di cinismo, che nei secoli passati serviva all'uomo a procacciarsi cibo, ma in tempi più recenti è diventato uno svago per annoiati aristocratici e latifondisti, che sparavano tanto alle quaglie quanto ai braccianti, che osavano ogni tanto alzare lo sguardo. Su via, diciamolo chiaramente, sarebbe il caso e l'ora di imporre ai cacciatori regole così restrittive ed onerose da scoraggiarli, in modo che possano dedicarsi nel tempo libero ad attività più edificanti. Addirittura in Spagna, dove la Corride è un'istituzione radicata nella storia e nel costume del paese iberico, stanno provando a rimettere in discussione quell'usanza comunque barbarica. Da noi, invece, rischiamo di fare un salto nel buio, e questo solo per un pugno di voti in più.